Siamo stati colpiti! Siamo stati colpiti! Siamo stati colpiti! Siamo stati colpiti! Urox leite, io troverimo una tristanda. Date giù! in arrivo attenzialo la testa attenzialo attenziali attenzialo la testa attenzialo attenziali A riparo! Trovate un riparo! La tesi è la testa! Al riparo! La tesi è la testa! La tesi è la testa! La tesi è la testa! Peccati questo, bastardo! La tesi è la testa! La tesi è la testa! Ehi, che bello che vedete voi, bastardo! Non so tu! Muori, bastardo! Buongiorno! 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 Bello essere vivi! Buongiorno! 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 A riparo! Aprire il fuoco! Grenata! Eccapi qua! Non schiappierà! Un'altra terra! Occhio! Apriamo le danze! La gatti è la netta! Dov'è? 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 Dov'è! No! No! ecco aprire il fuoco 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 Bate lì fuori! Qui, qui! Trovatelo! Lo appacherai! A riparo! Andiamo! 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 In arrivo! Andiamo! Andiamo! Sovrappositi! Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì.